La variante sudafricana del coronavirus spaventa l'Europa con il suo carico di incertezze e le voci su una presunta capacità di aggirare la protezione rappresentata dal vaccino. L'allarme è già arrivato anche in Veneto. Stiamo parlando di precauzioni perché non c'è nulla di concreto e certo neanche rispetto al fatto che questa variante bucherebbe il vaccino. Siamo in allerta, c'è stato un incontro ieri sera tra le regioni e la parte tecnica del Ministero. Ci hanno chiesto di essere molto attenti, di capire se ci sono casi e sequenziare subito. Noi abbiamo già preso contatto con l'Istituto Zoprofilattico per effettivamente essere tempestivi qualora ci dovessero essere dei casi o delle situazioni che noi riteniamo sospette. Mentre la variante Omicron costringe le autorità sanitarie mondiali a una revisione dei piani, il coronavirus continua a diffondersi in Veneto. Quindi i numeri salgono giorno dopo giorno. Questo ci deve far riflettere, ci preoccupa e quindi attenzione massima perché il virus sta circolando e chiaramente scenari di zona gialla o zona di altre colorazioni potrebbero interessare anche il Veneto. L'unica arma in questo momento sono i vaccini, uniti naturalmente alle precauzioni che conosciamo fin troppo bene. Dicevamo stamattina un incontro, 1.400.000 prenotazioni per quanto riguarda terze dosi e quindi insomma un numero molto importante. Le USL stanno aggiungendo slot, stiamo aumentando le linee, stiamo aumentando il personale proprio per arrivare ai 50.000 vaccini giorni come nei momenti di massima perché abbiamo capito che metterci in protezione rimane la nostra unica e l'arma fondamentale che noi abbiamo.